Eccoci di nuovo in diretta dal nostro studio di Udine per continuare il nostro approfondimento dedicato oggi al progetto Atena, un progetto avviato qualche mese fa, Patrizia, in febbraio, in inizio anno. Sì, in inizio anno abbiamo cominciato a pensarti poi praticamente a febbraio. E adesso siamo arrivati alla fine di questo progetto dedicato alle imprenditrici e artigiane della nostra regione che vogliono migliorare la propria condizione, vogliono imparare a promuoversi, a raccontare bene il proprio lavoro. Siamo anche in collegamento con il nostro Davide Zanirato da una delle realtà che ha partecipato a questo progetto. Davide, tra poco torniamo da te. Prima però Stefano, un veloce giro di cronaca. Questa mattina non l'abbiamo ancora fatto, quindi vediamo cosa accade in Italia e nel mondo. Cominciamo con l'ultima notizia in ordine cronologico, battuta alle 8.26. C'è stato un maxi sequestro della droga del combattente Isis a Gioia Tauro. Oltre 24 milioni di compresse di questa droga del combattente per un valore di 50 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dall'ufficio antifrode della Dogana nel porto di Gioia Tauro. Le parole compresse di Tramandolo, sostanza oppiacea sintetica, provenivano dall'India ed erano dirette in Libia. Secondo informazioni di Intelligence, il traffico di Tramandolo sarebbe gestito direttamente dall'Isis per finanziare attività terroristiche. Questa è la notizia che riguarda anche l'Italia. A proposito di Isis, c'è stata la rivendicazione dell'attentato di New York, Saipov è un nostro soldato, l'operazione ha innescato la paura nei crociati americani. Si legge sul settimanale di propaganda dello Stato Islamico, poi bisogna vedere quanto sia vero e quanto sia soltanto la classica, ennesima occasione colta al balzo dall'Isis. E parliamo anche di Catalogna, oggi è emesso un mandato d'arresto europeo per Puigdemont, il giudice spagnolo incaricato del dossier catalano. Carmela Mela emetterà oggi il mandato d'arresto europeo contro il leader degli pendentisti, rifugiatosi in Belgio. Il mandato non è stato ancora spiccato, contrariamente alle indicazioni dell'avvocato belga di Puigdemont, Paul Beckert, secondo quanto confermato da una fonte giudiziaria a Madrid. Questo è il primo giro di qua. Gli aggiornamenti che ci arrivano dall'Italia e dal mondo. Adesso noi siamo pronti per ritornare dal nostro David Zanirato in compagnia di un'altra delle ideatrici di questo progetto Atena. A voi David. Sì Angela, Emma Barreca ha curato la seconda parte di questo corso che era dedicata in particolar modo alle nuove tecnologie, al marketing. Esatto, alle competenze digitali, quindi la parte di marketing, come dici tu, che sembra sempre un po' una bestia nera, nel senso che appunto sono venute fuori queste storie incredibili, questo talento, il saper fare di tutte queste realtà. Ed è sempre un po' difficile portarlo fuori, comunicarlo. Ci si sente quasi in colpa, si prova quasi un po' un senso di vergogna nel raccontare agli altri che sappiamo fare qualcosa, che siamo bravi a farlo. Quindi diciamo che dopo il lavoro della prima parte, quindi quella di cui si è occupata Giovanna, abbiamo proprio cominciato col mettere su una mappa tutto quello che era emerso riguardo il talento, insomma i propri punti di forza, di debolezza, per andare a lavorare un po' su quella che poteva essere anche una strategia di comunicazione e di marketing. E poi in particolare ci siamo occupati di alcuni dei tanti canali online a disposizione, quindi in particolare di Facebook e di Instagram, e quindi siamo passate a capire come ci si può raccontare, come ci si può promuovere attraverso queste nuove tecnologie, questi nuovi strumenti. Praticamente partivano tutte da zero su questo piano? C'era qualcuna già che aveva intuito che la strada è da seguire? Sì, essendo così tante le partecipanti diciamo che c'era un po' di disomogeneità anche da questo punto di vista. Quindi anche per questo, piuttosto che focalizzarci solo sullo strumento digitale, che appunto può essere un canale o l'altro, abbiamo fatto un percorso un pochino più profondo, quindi l'idea di che cosa è il marketing, come praticamente si può costruire una strategia, e abbiamo cercato chiaramente di costruire un percorso che potesse prendere diciamo tutte le varie partecipanti, indipendentemente dal proprio livello di consapevolezza e anche di conoscenza e già di utilizzo di questi mezzi. Sappiamo che proprio lunedì nel corso di questa cerimonia ufficiale, insomma, di chiusura del progetto a Udine, parlerete anche in maniera particolare di queste tematiche attraverso diversi relatori. Esatto, lunedì 6 novembre si chiude proprio ufficialmente il percorso, il progetto Atena, con una giornata intera di lavori. La prima parte sarà dedicata sempre alle partecipanti del progetto, mentre la seconda è aperta al pubblico, quindi a partire dalle 14 e avremo vari interventi con delle relatrici esterne che ci racconteranno un po' dal loro punto di vista, in base alle loro esperienze, quello che è un po' il panorama dell'artigianato e del mondo artigiano oggi. In particolare, poi, per continuare il discorso sulle competenze digitali, avremo Linda Serra, founder di Workwide Women, che è una community, ma anche una start-up, che praticamente si fonda proprio sulla formazione, diciamo così, in e-learning, quindi prevalentemente online, che vuole insomma portare nuova consapevolezza, nuove opportunità di lavoro e di affermazione alle donne, soprattutto attraverso le competenze digitali. Quindi ci racconterà un po' meglio anche un punto di vista un po' più aperto. Certamente. Grazie a Emma Barreca. Noi tra poco ci trasferiremo dunque nei laboratori della Bottega Orafa, qui di Via Cisis, per mostrarvi davvero come si lavora. A tra poco. Grazie, grazie David. E a proposito degli appuntamenti in programma, lunedì pomeriggio, degli interventi, c'è anche un intervento di Onora Odorizzi di Italian Stories, che è questo portale che racchiude, diciamo così, le esperienze, le storie di tanti artigiani che, diciamo così, si mettono a disposizione di chi vuole scoprire, conoscere qualcosa di più della loro attività. Stefano, so che hai trovato il sito. Sì, c'è il sito appunto che permette di fare una ricerca su tutta la mappa italiana, che qui avevamo già zoomato un po' nel Friuli. Comunque ci sono tutti i punti di informazione, si può anche contattare e lasciare il proprio recapito. E poi ci sono tutti questi workshop che per seguire e comunque farsi un tuffo in tutte quelle che sono le varie storie d'impresa, con davvero tanti tipi, le basi dell'acqua forte o la stampa di una matrice, c'è anche la malga con il burro, il formaggio, c'è davvero di tutto, ci si può iscrivere e poi partecipare a questi corsi, a questi workshop. E ci sono anche due realtà della nostra regione che hanno aderito a questo circuito. Tra poco torneremo da Davide che si sta spostando nel laboratorio proprio di questa oreficeria. Prima però, con la nostra ospite, io andrei ad analizzare anche quello che lei ha raccontato alle partecipanti di questo corso. Abbiamo parlato dell'empowerment, abbiamo parlato del marketing, però forse bisogna partire dal reperimento dei fondi anche per l'avvio di tutte queste attività. Forse è il primo passo, il primo ostacolo da superare. Com'è la situazione? È facile o non è facile reperire fondi? Dove si va a vedere? Cosa si cerca? Chi offre? Allora, no, canali ce ne sono tanti e insomma sarebbe un lavoro solo quello di cercare quelli che escono. Diciamo che alcuni, in particolare quelli che derivano dall'Unione Europea, che poi ultimamente ha fatto secondo me saggiamente scivolare il tema delle pari opportunità uomo-donna dal settore sociale al settore occupazionale e lavorativo. Quindi cerchiamo di raggiungerle attraverso delle azioni positive. Richiedono una certa struttura, un certo numero di partner, certe competenze anche solo per scrivere e poi rendicontare i progetti. Questo progetto qua invece è stato finanziato, come dicevo, dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ha delle misure specifiche per le pari opportunità di genere, alcune rivolte ai comuni, agli enti locali e altre invece, come in questo caso, rivolte alle associazioni. È una cosa più alla portata, più agevole. Sì, bisogna sicuramente saper scrivere il progetto perché poi più passano gli anni, più queste misure vengono conosciute e più c'è concorrenza. Quindi il progetto deve essere confezionato bene, però si può fare a livello locale con un certo grado di controllo sul processo, sui partner, siamo tutti vicini, è un po' più facile. Se dovessimo dare un'indicazione semplice, di base magari a qualcuno, qualche donna che ha un'idea in testa e alla caccia di fondi, dove deve andare a cercare, secondo lei? Ma allora, questi fondi qua sono per rappresentanti di donne, quindi enti e associazioni. Invece ci sono un sacco di fondi anche della stessa regione per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, giovanile, eccetera, a cui uno può aderire e può cercare di accedere anche singolarmente. E siamo pronti adesso per ritornare da David Zanirato, che vedo pronto nel laboratorio di questa oreficeria. Voi David? Sì, grazie Angela. Siamo davvero curiosi anche noi di vedere all'opera Clarice, che è la zia di Marta e che ora ci mostrerà una delle tante lavorazioni preziose che si svolgono all'interno di questa bottega. Signora Clarice, cosa ci mostrerà quest'oggi? Uno sbalzo, cioè con i ceselli in acciaio viene lavorata la lastra liscia. Adesso vi faccio un esempio. Col cannello ora sta scaldando? Sto scaldando perché la pece di fondo che blocca la lastra sia morbida, morbida in modo da poter modellarla. Ora inizia con la scalpellina. Inizio, sì, con i ceselli a dare un disegno, un volume all'oggetto. Questa qui, una volta terminata, diventerà una spilla importante. Nello sbalzo, la parte esterna è tutto poi scarto perché viene tagliata e rifinito solo la massa del disegno. Il disegno che cosa rappresenta? Il disegno rappresenta una forma un po' astratta, però sempre con un criterio animalistico. Quindi può esserci un orecchio, un becco, delle gambette, delle zampette. Qui, per esempio, viene inserita una grossa pietra che è un cristallo di tormalina policroma. In questo spazio poi viene incastonata la pietra e questa parte viene tutta eliminata in modo che la forma che noi otteniamo di spilla è proprio solo la parte volumetrica. Tutti questi ceselli forgiati a mano in acciaio hanno delle forme diverse, secondo il segno che io voglio ottenere. Secondo il segno che io voglio ottenere. Un lavoro che chiede quanto tempo? Parecchie ore di lavoro, parecchie ore. E poi riusciamo a vedere opere di questo pregio. Sì, opere di questo pregio. Questo diventerà un bracciale alla schiava rigido con delle pietre. Questo è solo il modellino di cartoncino che poi viene impresso sulla lastra in argento, in oro, secondo. Ecco, questo qua è forgiato invece sbalzato in rame. Questi sono modelli per un bracciale. Questo è già un esempio di uno sbalzo, un piccolo frammento. E l'oggetto sbalzato poi prende questo sapore. Davvero complimenti alla signora Clarice al laboratorio Orafo qui di Via Cisis. Per l'ultimo collegamento vi mostreremo altre lavorazioni importanti che vengono fatte qui in Via Cisis. A tra poco. David, una curiosità. Puoi chiedere alla signora da quanti anni fa questo lavoro e da chi l'ha imparato? E' andata a scuola o gliel'ha insegnato qualche suo parente? Chissà. Dallo studio, signora Clarice, sono curiosi. Da quanti anni svolge questo lavoro e chi gliel'ha insegnato? Beh, ho cominciato a otto anni che ero una bambina per giocare. Il mio papà, il maestro Sergio, mi ha insegnato questo lavoro. Poi ho fatto l'istituto d'arte, i cinque anni... I risultati si vedono. I risultati si vedono, anche perché proprio è un lavoro che mi piace tantissimo. Si vede, si vede, confermiamo. Mi piace, grazie, grazie. Complimenti. A te Angela. Ho iniziato a fare questo lavoro otto anni per gioco e poi è diventata davvero una professione. Io andrei a sentire adesso, prima di ritornare da David, le testimonianze di alcune delle donne che hanno partecipato a questi progetti. Così sentiamo anche cosa hanno raccontato loro e come hanno vissuto loro questa esperienza. Allora, io faccio parte del movimento Donne Imprese della Confartigianato di Pordenone. Abbiamo appoggiato il progetto Atena e io ho frequentato un po' per farmi l'idea di come sono adesso le imprenditrici che hanno già l'attività e quello che vogliono avviarsi all'attività. È stato un progetto, sì, degli incontri molto positivi. Ho imparato anch'io, anche se ho un'impresa ormai da 40 anni, delle cose nuove, soprattutto sul digitale. Quello che ci hanno dato loro durante le lezioni aiuta sicuramente tantissimo ad aprire questa nuova impresa artigiana. Ho sentito la pubblicità per questo corso in TG Ragionale e mi ha incuriosito. Ma soprattutto, essendo io curiosa e ho sempre la voglia di imparare, mi sono presentata e sono stata accettata. Ho imparato molte cose che non sapevo. Ho incontrato delle persone che ritengo meravigliose perché ho scoperto una potenzialità nelle donne che frequentano questo corso incredibile. Quello che poi ho imparato, anche se non mi sarà necessario per la mia vita lavorativa, perché come vedete io sono già avanti con gli anni, però mi è necessaria comunque per la vita di tutti i giorni, per la vita anche in famiglia, per il dialogo con i nipoti, per il capire maggiormente quello che nella società sta evolvendo. Quindi sono pienamente contenta e ho apprezzato i contenuti di questo corso. E ho apprezzato le insegnanti. Sono state all'altezza delle mie aspettative, forse anche di più. Sicuramente fare rete mi permette di essere anche più forte, di propormi anche con loro e con i loro suggerimenti in futuro. Mi è piaciuto molto il clima che si è respirato in aula, dove mi sono sentita al pari degli altri. E sicuramente anche le persone che ci hanno seguito durante questa avventura sono state piacevoli e ci hanno messo a nostro agio, cercando di comprendere le nostre difficoltà e darci degli ottimi suggerimenti. La cosa più interessante per me è stata proprio scoprire l'opportunità che internet può offrire di questi tempi nella vendita online, dove è possibile veramente raggiungere un pubblico molto più vasto rispetto a quello che si potrebbe fare rimanendo qui nel nostro territorio. E ho imparato veramente molte cose. Queste alcune testimonianze che avete raccolto. Abbiamo visto donne di età diversa. Da alcune testimonianze è emerso il fatto che si è creata appunto una rete fra le partecipanti e anche questo era uno degli obiettivi del vostro progetto, perché appunto le reti fra imprese diverse sono molto importanti, creare le relazioni non solo personali ma anche proprio pratiche operative per portare a termine un proprio progetto, un proprio prodotto. Sì, sia per il fatto che incrociando diverse competenze possono nascere anche a livello proprio di innovazione delle idee nuove che magari una persona da sola non potrebbe, sia perché in un mercato del lavoro così complesso entrare in una rete è sicuramente un punto di forza. Infatti tanti degli interventi che poi avremo anche il 6 novembre sono stati pensati per dare un'idea delle possibili reti in cui si può entrare, che possono dare forza, visibilità, eccetera. Sicuramente. Ritorniamo da Davide adesso per un ultimo collegamento. Davide, a voi la linea. Sì Angela, siamo ritornati in compagnia di Marta Capitelli per farvi vedere dunque alcune di queste lavorazioni che vengono svolte qui nella bottega Sergio Mazzola di Via Cisi. Se così facciamo anche un ripassino sul corso. Come lo racconteresti a un telespettatore questa opera qui che prende spunto, se non sbaglio, da un mosaico di Aquileia? Da una pavimentazione, sì, di un mosaico di Aquileia e qui abbiamo riprodotto questa ciotola, questo svuotatasca in alluminio patinato dove vediamo appunto questa raffigurazione di questo pavone con il dettaglio del grappolo dell'uva che erano simboli molto potenti, molto forti, quindi il pavone è simbolo di mortalità dell'anima mentre il grappolo con l'uva è sempre un simbolo attualmente ancora di buon auspicio. Ora ci trasferiamo invece in quest'altro banco per mostrarvi alcuni dei premi che vengono consegnati in eventi di primo piano del nostro Friuli. Partiamo per esempio da questa, che cosa si tratta, che cosa raffigura e a chi viene consegnata solitamente? Queste sono tutte e tre delle statuine sempre in alluminio fuso a staffa che è una tecnica particolare dove viene impressa la forma desiderata nella terra su base di pietra piasantina, quindi anche questa è una pietra propria del nostro territorio friulano. Partendo da questo ci chiama Raktis, è l'ultima nata diciamo in famiglia e è un omaggio per il ventesimo simposio di scultura su pietra di Verniaco, quindi areana del Royale. Quindi al centro invece? Al centro troviamo i tre re, che è un omaggio che facciamo ogni anno per il premio Epifania di Tarcento, mentre questo è il premio Paolo Diacono realizzato per il convitto nazionale Paolo Diacono a Cividale. E questa statuetta l'hanno vinta il questore Cracovia, Gianola Nonino e Bruno Pizzolo, è vero? Esattamente, esattamente. Grazie, grazie a Marta Capitelli e a tutte le nostre ospiti che ci hanno accompagnato nel racconto di questo corso e di questa realtà artigianale friulana. Grazie naturalmente a Fabio Di Bernardo per le riprese ed è tutto. A te Angela. Grazie, grazie David. Noi rientriamo in studio, siamo alle battute finali e chiedo alla nostra ospite se all'orizzonte c'è una riproposizione di questo progetto, perché come abbiamo visto lunedì 6 ci sarà la giornata conclusiva per tirare le fila un po' del lavoro fatto. Ci sarà un seguito? Allora, noi speriamo di sì, nella nostra mente, la nostra idea è quello di riproporlo, soprattutto andando a toccare quella che è l'area montana, perché avendolo fatto qua in tutta la regione, avendolo fatto a Udine, magari non è comodo da raggiungere per tutti, quindi ecco, sfruttando dei finanziamenti o regionali o europei, adesso vediamo un po' come muoverci, l'idea era quello di portarlo un po' anche nell'area montana. Avete avuto delle richieste dall'area montana per questo progetto? Abbiamo avuto, diciamo che abbiamo parlato soprattutto con i partner, quindi le ACLI e con Fartigianato e abbiamo un po' individuato questa zona di bisogno su cui si potrebbe lavorare in futuro. Perfetto, Stefano c'è qualche aggiornamento di cronaca importante? Non importante, ma tra sport e cronaca la chiudiamo così, perché c'è l'archiviazione o meglio la chiusura dell'indagine della procura di Torino per gli incidenti di Piazza San Carco, che purtroppo ricordiamo bene per la finale di Champions League tra Reale e Juve, che ha causato 1.500 feriti, purtroppo anche la perdita della vita da parte di una donna, ci sarebbero diversi indagati, ma i rumors parlano che il PM del capoluogo piemontese si prepara a notificare gli avvisi di termine di indagine a 5 mesi dai fatti avvenuti. Poi un altro episodio brutto, ma che ha suscitato la nostra curiosità, Evra, proprio ex Juventus, qui lo vado a indicare un po' con la freccia perché se no non si vede benissimo, comunque ha dato un calcio in faccia a un tifoso. È stato squalificato prima della partita, c'erano state un po' di tensioni tra i tifosi del Marsiglia e i giocatori, tra l'altro caso curiosissimo perché ha iniziato in dieci uomini la partita il Marsiglia perché è stato espulso. Tra l'altro poi vediamo che ci ha ricordato proprio la situazione relativa a Eric Cantona, che anche lui francese, anche lui qui si è scaldato un po' troppo, diede un calcio al suo supporter, tra l'altro anche in questo caso. Non ricordo quante giornate prese di squalifica, ma tantissime e la stessa cosa rischia di capitare proprio per l'ex difensore della Juventus. Quando saltano i nervi, saltano un po' a tutti, ma i giocatori dovrebbero evitare per quanto possano essere gravi gli insulti dei tifosi, reazioni del genere. Quanto potrebbe rischiare secondo te Stefano? Non so, anche perché poi l'Europa Liga è una competizione che ha le giornate ben diluite nel tempo, quindi comunque si parlerà forse di un mese di squalifica, credo. Però non sono esperto. Non ci sbilanciamo. Cantona, se non erro, prese tra i sette e i dieci turni di squalifica o qualcosa del genere. Ma sicuramente brutte immagini da vedere, decisamente brutte. Io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi oggi, averci raccontato questo progetto. Buon lavoro anche a Patrizia Daneluzzo e a tutte le sue collaboratrici che abbiamo visto oggi in esterna. Grazie anche a Stefano Giovampietto. Tra l'altro mi correggo perché ho cercato subito su internet. Otto mesi di squalifica, non giornate. Otto mesi, beh, ben gli stavo. Quindi forse se la rischia male, seguiremo, vi aggiorneremo. Grazie a Francesco Snidero e Emanuele Sergi, oggi in regia ovviamente alla nostra truppa esterna Davide Zanirato e Fabio Di Bernardo, a tutti voi che ci avete seguito e da parte nostra ancora un buongiorno Friuli. Grazie a tutti.